Assegnato a Ornella Vanoni il premio Tenco, ieri sera la cerimonia di consegna al Teatro Ariston di Sanremo. Allora vediamo con Carola Carulli. Una tenera fragilità che nasconde nella sua voce che ancora incanta. A 87 anni non si arrende al tempo che passa e si emoziona ancora tanto mentre ritira il premio Tenco speciale dedicato a lei. Devo dire che l'emozione questa sera è molto forte e non cantare per tanto tempo ti lascia un po' così. Sono molto emozionata, molto, 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 troppo. Molti ricordi che la legano a Luigi Tenco come quando vinse la gondola d'oro a Venezia e cantono sua canzone che cambia molte cose. Mi sono innamorata di te. I giornali, i giornalisti hanno scritto che io avevo cambiato la canzone femminile perché una donna che dice di notte ti vengo a cercare. Tutti dicevano che avevo un brutto carattere. In realtà ero timida e quindi diventavo come tutti i timidi, spesso aggressiva. Un artista sempre pronta a raccontare un presente che vede così. Parole sulle notte sono state la migliore compagnia. La mia vita io l'ho fatta, però la cosa bizzarra è che ho cominciato la mia vita con la guerra e adesso c'è la guerra. Non è da noi ma è vicina. Abbiamo ancora l'allegria. Siamo in chiusura.